Dici sempre il titolo, come se è il titolo Ucund? La castagna? No, la castagna mucca, non digiuna, non si mette una castagna mucca. Eh, però come si chiama Ucund, come il titolo? Che c'è? La castagna, non c'è la castagna, non c'è la castagna, non c'è la castagna. Questo è il titolo Ucund, il padre e la figlia avevano sempre sappato, prima si sappava sempre sappato i luoghi, e gli avevano sempre sappato i luoghi, lui avevano sempre sappato i luoghi, non valivano, sappano, sappano. Lui avevano il padre, non c'è la mortale. E' un cuntro mortale, non c'è la castagna. Alla stessa mi ha detto mucca la figlia, poi. Eh, però uditele ho conto il mortale. Ho conto il mortale, non mi hai ascoltato, ma cosa ho fatto il mortale? Oh, ricetta il padre. Ha trovato il mortale, questo è un portore, un portore, un pestello, un pestello, un pio. Ho cose per pesare. Ho pestello. Eh, ho cose per pesare. Ma non credo che ricetta chi è che ha fatto il pestello? Il mortale e il pisaduro. Ah, io ho fatto, ho pulito tanto bello, ho fatto tanto bello. Ho fatto tanto bello, ho fatto tanto bello. Ho fatto un pochino e ho fatto un re. Ho fatto così, certo. Certo, il signor maestà ha detto, mia figlia domanda questo pencherino, certo. domanda mattina andava nel campo, non di notte, non di giorno, non mangiato, non di giorno, non cavallo, non appena. E n'è n'ora n'è vestuta. E n'è n'ora n'è vestuta. Ma faccio il cazzo, come hai da casa? Come hai già fatto? Ho già fatto il cazzo, e ho detto, buona tu che hai già fatto il pestello, vedi? Allora, il pestello ho già portato, c'è stato il figlio, quando è nata mattina. Ho portato il pestello, allora non si preoccupa papà, ma vedi che? Vedi che? Vedi che? Vedi che? Vedi una vestita velata, la nuova, si mette questa vestita velata. Il figlio è una grappa, si mette a capata, si mette una castagna a mocca. e si presentano andando alla porta, all'arba, all'arba, con il pestello in mano. Buongiorno signore maestà. Ho preso il pestello, mi ha già presentato come vuoi, si è tirato. Tutti hanno una nuova, hanno un pochino, hanno mangiato una pochino. Tutto fatto le reggietti. La reggietta, dice che che ho saputo fare? Tutto questo qua? Ho sposato mio figlio. Adesso ho detto, ho detto, ho sposato il re, il principino. Hai capito? E' finuto? Ah questo è tutto. Allora com'è? Vuol dire che ha una pauretta di Dio si può sposare. Si è sposato il tuo figlio. Eh, come concludiamo? Ma è tra tre confetti. Ma è tra tre confetti. Una un'oretta gallina per sbagliare la figlia. Un'altra è portata a cavallo. E' nato pure e pure e indo per questo cielo. Non conto ne sa c'è. Non conto ne sa c'è. Non conto ne sa c'è un perro figlio. Un perro figlio è una piscicarola. E' nato una bella figlio.